Il nostro Napoli getta l'ortiche, un'altra grande occasione per avvicinarsi alla zona Champions, pareggiando contro il Flosinone. Una gara da dimenticare, giocata senza carattere dagli azzurri. Ne parliamo stamattina in compagnia del giornalista Giuseppe De Silva. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie per l'invito. Il Napoli ancora una volta ricade nei propri errori e pareggia con il Flosinone. Che partita hai visto? Una partita che era cominciata sotto i migliori auspici perché i primi 20 minuti del Napoli sfido chiunque a dire che non siano stati più che soddisfacenti. Poi però abbiamo sempre il solito problema, non riusciamo ad avere una prestazione che sia continua nel corso di tutta la partita. Quindi facciamo 20 minuti, magari anche buoni, e poi però ci perdiamo lungo tutto il resto del match. È una costante. Il Napoli in questo è molto costante, diciamo. Almeno in questo. La costanza è costante e riesce a essere anche costante nel far mettere, se mi consenti questa frase un po' napoletanica, diciamo così, far mettere le crocette al fegato ai tifosi perché abbiamo visto che ieri c'è stata anche una forte contestazione dopo la partita. E' comprensibile perché francamente la prestazione poteva, come giustamente detto tu, essere improntata ad un carattere sicuramente più forte. Anche perché noi vediamo che continuativamente abbiamo delle occasioni da sfruttare e non le cogliamo perché se guardiamo la classifica siamo a sei punti dalla quinta. Una squadra quindi che continua a subire gol, direi, in modo imbarazzante. Ma che Napoli hai visto quindi? Ma il Napoli in questo è appunto costante, cioè fa sempre gli stessi errori. Consideriamo che quest'anno abbiamo subito in campionato soltanto 40 gol e ne abbiamo presi sei soltanto dal Frosinone in casa, quattro in Coppa e due qui. E sono percentuali che certamente non sono la grande squadra e c'è un problema proprio di fase difensiva perché cambiano gli interpreti, c'era Ostigard in campo. E però abbiamo visto che evidentemente ci sono passati la parola ai calciatori del Napoli, no? Cioè se non c'è Juan Jesus a fare la sciocchezza di turno e la farà a Mani, che ieri ne ha fatti diverse, mettiamoci pure il povero Merette che è stato costretto in pratica a quell'errore, è stato costretto in questo caso. Quindi io non gli butterei la croce addosso a Merette che però ci ha salvato. È stata un po' un'ingenuità, diciamolo, di Merette. Poi ecco, diversi sbarioni difensivi come tu ben dicevi. Ma come te li spieghi? Ma guarda, è difficile da spiegare, anche perché l'abbiamo detto più volte, Calzona è un tecnico che avrebbe nella fase difensiva la sua specialità. Si è laureato, come si dice oggi, a Coverciano con la fase difensiva. Quindi è molto difficile ipotizzare un perché e un per come. Io credo che ci siano alcune problematiche che noi ci siamo portati dentro, diciamo, questo campionato dall'inizio. Cioè una è una preparazione atletica che di fatto non ci consente di avere delle partite che siano continue, no? Con una media standard di prestazione. Perché noi vediamo anche il buon Di Lorenzo, che di solito è un Highlander, quest'anno fa fatica a recuperare. Questo è uno dei problemi, secondo me. Perché è vero che ieri faceva caldo, però, insomma, correvano di più gli amici del Frosinone rispetto a noi. Questo è un primo problema. Il secondo problema, secondo me, è dato da una impostazione tattica e tecnica. Si vuole insistere con questo 4-3-3, magari è pure giusto perché il tecnico lo vede così. Però se nel 4-3-3 non ci sono le coperture delle cosiddette mezze ali, cioè se Angissà non va a coprire la sua area, se dall'altro lato Zilischi non copre la sua area di competenza, le famose catene di cui tanto abbiamo parlato, è evidente che quando ci attaccano andiamo in difficoltà. E prendiamo gol sempre allo stesso modo. Pensiamo che Dragosin ha segnato con Diuric, comunque il centravanti del Monza ha segnato la settimana scorsa con un colpo di testa ed erano mesi e mesi che non segnavano. E abbiamo fatto la stessa cosa con il centravanti di Frosinone ieri che ne ha segnati due. Hai ragione. Direi brutti segnali questi da parte di questa squadra che sembrava non essere proprio conscia dell'opportunità di questi tre punti. Quindi 11 calciatori senza orgoglio, possiamo dire, senza carattere. È stato anche molto sottolineato questo aspetto del cosiddetto amor proprio nella difficoltà. Però io dico una cosa, quando le cose non girano in generale, quando tu stai male fisicamente, la testa fa difficoltà ad essere lucida nelle migliori occasioni. Io ho anche qualche difficoltà a comprendere le dichiarazioni di Calzona che è sempre molto onesto nelle sue analisi, però ieri per esempio ha detto che non siamo squadra. E ragazzi, ma tu stai là per far sì che i giocatori siano squadra. Peraltro la squadra che abbiamo visto in campo ieri era composta dagli stessi undicesimi dell'anno scorso. Quindi deve essere successo qualcosa nello spogliatoio. Altra dichiarazione che mi ha lasciato un po' perplesso. Dire, io durante l'intervallo ho detto ai ragazzi che se continuavano a giocare così non avremmo vinto questa partita ed eravamo sull'1-0, allora io faccio una doppia considerazione. Uno, ma se tu dici una frase del genere ad un giocatore che in quel momento lì sta dando l'anima, magari lo smonti. Seconda considerazione, se tu vedi che questo benedetto 4-3-3 non funziona ed è un colabrodo, no? Ma è un peccato capitale mettere un altro difensore, giocare con due linee difensive, 4-4 e due attaccanti, magari sacrifichi Guaraschiele che ieri non è che stava proprio al massimo, oppure Politano era stanco, togli Politano, metti i mazzocchi e ti difendi quell'1-0 che magari ti porti a casa e ti consente di stare un po' più tranquillo in classifica. È peccato capitale cambiare il modulo, mi domando? No, eppure i segnali col Monza erano stati comunque incoraggianti, ma purtroppo non si può vincere concedendo tutti questi gol. Quindi secondo te Calzona ha definitivamente fallito? Guarda, io su questi termini ci dobbiamo andare cauti, credo. Sai perché? Perché il calcio è fatto di momenti. Adesso noi abbiamo visto ieri in pratica, no? Avessimo vinto quella partita saremmo stati praticamente ad un'incollatura dal quinto posto che pare che sia oggettivamente e ufficialmente utile per la Champions. La Roma ieri ha avuto quel problema con quel giocatore che è finito in ospedale e quindi la partita è stata sospesa, non si sa bene quando si recupererà. Ma la Roma ieri stava perdendo, poi ha pareggiato e alla fine noi siamo rimasti a sei punti, nonostante il nostro cammino zoppicante e tartarugoso, diciamo così. Ma se lo meritavamo questo posto? Ma senti, allora se dobbiamo andare in merito quest'anno, io credo che sia un termine che noi con il Napoli non dobbiamo adoperare assolutamente, perché io credo che l'unico calciatore che abbia veramente meritato l'applauso quest'anno, con tutte le difficoltà che ha avuto, anche fisica, sia stato Politano, che è stato forse l'unico a dimostrare il vero attaccamento alla maglia. Non è voluto andare in Arabia, ha voluto rinnovare a tutti i costi, quando scende in campo si fa in quattro e alla fine ieri proprio Politano ci ha sbloccato la partita. Quindi ci sono alcuni giocatori che possiamo definire salvabili, su tutti io ci metto Politano, poi ci mettiamo un po' di Lobottica. Il resto, chi più chi meno, per difficoltà varie, sono tutti quanti al di sotto di quel termine che tu hai usato, cioè al di sotto del termine merito. Perché se pensiamo a Osimè, ieri si è mangiato tre gol, un centramanti che mangia tre gol qui e se ne è mangiati due l'altra volta, peraltro comunque la butta sempre dentro, quindi alla fine diventa difficile la valutazione. Però ci sono molti giocatori del Napoli che sono al di sotto di quello che è stato lo standard dell'anno scorso. Che cosa sta sbagliando quindi Calzona? Non trova comunque una continuità? Ma io credo che adesso, per carità, noi non ci vogliamo mettere a fare i giudici del Santo Uffizio, però ragioniamo in base a quello che vediamo. Cioè io credo che un allenatore debba anche leggere la partita dal campo. Ieri il buon Di Francesco, il tecnico del Frosinone, ha letto la partita a un certo punto, ha invertito gli esterni e alla fine ha messo dentro due giocatori perché pensava di poter andare a vincere e poi ha stretto la marcatura sulla bottica. Noi invece abbiamo avuto difficoltà, nel momento in cui l'allenatore avversario ha letto la partita, a rispondere con una nuova lettura. Ecco perché io dico, ma è un peccato capitale cambiare modulo, perché nel momento in cui io so che ho una difficoltà difensiva, posso anche cambiare modulo. Sono andato in vantaggio due volte. Posso pensare di difendermi un po' meglio, piuttosto che lasciare quei buchi? Allora, se io leggo la partita, se ho detto nello spogliatore così non la vinciamo, ci metto una toppa, ci metto altri due difensori, sacrifico un attaccante e mi vado a difendere. Questa è la mentalità degli anni 70. No, questa è la mentalità di chi vuole andare a vincere le partite, non di chi si vuole fare infilare. Vediamo un po' che cosa succede anche sabato, che si gioca contro l'Empoli. Giuseppe, noi ti ringraziamo di essere stato in nostra compagnia. Quindi ancora grazie al giornalista Giuseppe De Silva per averci ovviamente parlato di questo Napoli, del Napoli ovviamente di fine campionato.